Avere una visione etica vuol dire certezza di poter impattare un territorio, far sentire l'importanza di vivere una comunità all'interno di un edificio teatrale. Essere il primo firmatario del manifesto etico voluto dal Teatro Reggio di Parma mi commuove e mi inorgoglisce. Noi artisti abbiamo il dovere di portare la nostra arte, l'opera e la musica anche fuori dai teatri. Penso anche che sia parte integrante del compito di ogni artista per ridonare qualcosa al mondo che ci ospita, di restituire qualcosa. Aderisco formalmente al manifesto etico del Teatro Reggio di Parma. Credo che sia un'iniziativa lodevole perché ogni artista che aderisce si impegna a trascorrere parte del proprio tempo negli spazi, nei luoghi più fragili della città. Teatro sì, sono assolutamente convinto, ha il compito di rendere in qualche modo la società migliore proprio attraverso l'arte che crea. Contro la mancanza di ideali, contro l'indifferenza, l'intolleranza. Sento il dovere quotidiano come una missione, una professione di fede. Sono felice di aderire al manifesto etico del Teatro Reggio di Parma. Desidero esprimere la mia adesione. Sono veramente molto felice ed orgoglioso di poter sottoscrivere. Aderisco con grande entusiasmo. Anche io aderisco con gioia. Aderisco molto volentieri. Che tutti quanti abbiano la possibilità di conoscere questa forma di teatro, di opera, di musica. Una missione importantissima per tutti noi che abbiamo la fortuna di fare teatro. Ci metto anche una firma.